50 milioni di malati nel mondo, più di 1.200.000 solo in Italia, un esercito di persone fragili, in prevalenza anziane, sempre meno consapevoli, sempre più vulnerabili, circondate da famiglie premurose, almeno quanto sole. A me piace ricordare che se io alzo una mano e faccio questo movimento, uno, due, tre, ho scandito tre secondi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che ogni tre secondi si scopre un nuovo caso di demenza nel mondo. La sfida della cura e del sostegno non può che partire dalla conoscenza e dall'informazione. Ecco perché Varese Alzheimer e Fondazione Molina, dove l'associazione trova la propria sede dal 1995, hanno organizzato una serie di tre incontri serali previsti i primi tre giovedì di ottobre, in salone estense. Appuntamenti aperti e consigliati a tutti, anche perché la demenza, sia essa Alzheimer o no, va osservata e capita da diverse angolazioni, quella del malato, quella del parente e quella della rete sociosanitaria, che deve prendersi cura di entrambi. Siamo particolarmente felici di poter organizzare, in sinergia con l'assessorato ai servizi sociali del Comune di Varese e con l'associazione Varese Alzheimer, queste serate di comunicazione alla popolazione e sensibilizzazione nei confronti della popolazione di una patologia in progressivo ampliamento di casistica. Quindi siamo felici di poter comunicare alla popolazione e sensibilizzarla nei confronti di questo problema.